È andato ufficialmente in archivio il primo mese della stagione regolare della MLB, tempo dunque per il canale del primo appuntamento con le review. Un appuntamento al mese per quanto riguarda la regular season a partire da ogni primo giorno del mese per poi arrivare a ottobre con un appuntamento a settimana per i vari contenuti a tema playoff. Come al solito analizzeremo le 30 squadre MLB partendo ovviamente dalle classifiche delle varie divisioni per poi concentrarsi su episodi che sono già accaduti in questo primo mese di stagione regolare. A cominciare dall'American League East che vede in testa i Baltimore Orioles squadra che erano ovviamente pronosticati per essere così in alto. Ricordiamo gli Orioles hanno vinto la American League East lo scorso anno con 101 vittorie, Brandon Hyde ha ottenuto il titolo di Manager of the Year e i Baltimore Orioles di fatto hanno finito dove avevano cominciato la regola la season scorsa. Quindi vincendo 19 vittorie per la formazione del Maryland a fronte di 10 sole sconfitte con una percentuale di vittoria del 65%. C'è già un vantaggio comunque importante sui New York Yankees che comunque sono una squadra che possono evidentemente contendere la prima posizione. L'American League East come al solito, come vediamo già dalla grafica, è una divisione altamente competitiva. Gli Yankees sono secondi con due sconfitte in più rispetto ai Baltimore Orioles. 19 vinte, 12 perse, una partita di distacco per la formazione del Bronx che nonostante delle grandissime incognite sul montrilancio a partire dal grande infortunio di Garrett Cole che lo terrà fuori per un po' di tempo e una partizione di partenti che sulla carta non era propriamente da prime della classe sta compensando con la caratteristica migliore degli Yankees ovvero l'attacco. Vero che gli Yankees vengono a due sconfitte consecutive però comunque non bisogna mai dare per morti. La formazione di Aaron Boone, 19 vittorie di sconfitte per gli Yankees che sono invece a due partite di distacco all'incirca dai Boston Red Sox che sono una grande sorpresa di questa American League East, dice 7 vinte, 13 perse, sempre a poito di infortuni. La formazione del Massachusetts non ha in teoria grande velleità, ha maggior ragione con degli infortuni che possono togliere del potenziale la formazione di Alex Cora eppure i Red Sox sono assolutamente competitivi quantomeno in questo primo mese di stagione, hanno trovato anche dai vari richiami dalle formazioni minori un core di giovani che sta facendo effettivamente una bella figura, dice 7 vinte, 13 perse per i Red Sox in questo momento non è tutt'altro che male i Red Sox erano pronosticati per essere ultimi in division, certo è sempre il primo mese di stagione regolare però comunque vedere una American League East competitiva fin da subito fa assolutamente piacere chi invece sta sottoperformando, a mio modo di vedere, o meglio è partito con le marce ridotte sono le squadre che nell'American League East occupano la quarta e la quinta posizione i Toronto Blue Jays infatti sono quarti a 15 vittorie e 16 sconfitte, Tampa Bay invece è ultima con 14 vittorie e 17 sconfitte Tampa Bay va detto è partita piano ma come un po' Toronto e come evidentemente le altre squadre di questa American League East non bisogna mai darle per morti, ovvio però che Tampa Bay sfrutta il fatto di avere un farm system parecchio interessante certo qualche giocatore di Superstar potrebbe fare meglio, vedi per esempio Randy Arrosarena che sta sottoperformando è anche vero però che il primo mese è parecchio poco indicativo, i veri giochi si faranno evidentemente dall'All Star Game in avanti per la maggioranza delle squadre, c'è qualche squadra in realtà che possiamo già dare per finita al primo di maggio ma ovviamente ne parleremo quando affronteremo le altre divisioni e rimanendo invece nell'American League East andiamo ad approfondire un grande tema perché come al solito sapete che queste MLB Review si concentrano sulla revisione della classifica al primo giorno di ogni mese successivo rispetto a quello di cui stiamo parlando ma appunto andiamo anche ad analizzare quello che è successo degno di nota e quello di cui tutti hanno parlato dopo un altro grande episodio che però riguarda gli Houston Astros è l'ascesa e la venuta di Jackson Holiday, Jackson Holiday è il prospetto numero uno della nazione statunitense per quanto riguarda i giovani è un affiliato dei Baltimore Orioles che nel corso degli anni sono stati veramente maestri a scegliere giocatori di un certo livello e sono giocatori che per la maggioranza dei casi compongono ancora oggi questa squadra uno su tutti, Edry Ruchman numero uno al draft del 2019 ebbene Jackson Holiday è il numero uno del draft del 2023 e dopo una grandissima ascesa evidentemente per quanto riguarda il figlio di Matt Holiday, storico giocatore dei St. Louis Cardinals è arrivato alle luci della ribalta, ovviamente il draft di Holiday è il 2022 non ovviamente il 2023 ma comunque quello che conta è una grandissima ascesa quasi un po' a bruciare le tappe, le tappe però non sono state bruciate anzi forse l'hanno fatto troppo in fretta perché Holiday è arrivato in MLB ha fatto 34 turni in battuta e ha battuto un ricco 0.59 che è veramente una media di battuta oscena si diceva comunque un gran bene, Holiday è un interno, un giocatore che può ricoprire più ruoli nel diamante era veramente hypato esattamente come fu Ruchman prima di lui ma Ruchman comunque al momento è un giocatore di livello superiore a questo Holiday Holiday arriverà, ricordiamo che parliamo di un ragazzo del 2003 non ha compiuto praticamente neanche 22 anni quindi è un giocatore che dovrà farsi e dovrà crescere certo Holiday sarà il prospetto del futuro abbiamo visto tanti altri giocatori che comunque hypati tanto hanno fatto bene il primo anno e male il secondo Holiday deve ancora formarsi giustamente è stato richiamato dalla Major League al AAA ma comunque è un nome di cui dobbiamo assolutamente attenzionare e vedere Holiday sarà il prospetto del futuro e potrai avere sicuramente un talento da sviluppare nei prossimi anni è arrivato, ha fatto una comparsa in MLB è tornato indietro ma comunque Holiday saprà sicuramente trovare il proprio spazio in questa squadra di giovani che vede comunque un primo posto solido in questa American League East con dei Baltimore Orioles che senza dubbio anche quest'anno sono da corsa quantomeno per i playoff per la divisione nei prossimi inizio stagione anche con gli altri ragazzi delle dirette di MLB Italia avevamo detto che gli Yankees potevano essere leggermente superiori quantomeno per l'attacco certo Baltimore rispetto agli Yankees ha un motilancio leggermente superiore a mio modo di vedere e comunque gli Orioles sono in forma due vinte di fila consecutive e sette nelle ultime dieci gli Yankees sono un attimo in flessione ma appunto come abbiamo sempre detto il primo mese è abbastanza poco indicativo vedremo come si svilupperà la stagione da qui in avanti vediamo adesso l'American League Central un'American League Central che è stranamente competitiva tranne per una squadra ma di cui parleremo tutte le altre sono praticamente competitive e sono evidentemente come dire protagoniste di una division che sulla carta è la peggiore delle sei senza se e senza ma eppure l'American League Central trova della competizione quattro squadre sopra il 50% di vittoria dopo il primo mese e dei sorprendenti Cleveland Indians o Guardians come si chiamano adesso con 19 vinte e 10 perse in American League di fatto è lo stesso record dei Baltimore Orioles con l'unica differenza che appunto nonostante due sconfitte consecutive i Guardians sono solidamente primi in questa divisione con due partite di distacco rispetto alla seconda classificata i Guardians possono contare su un grandioso José Ramírez e i fratelli Naylor su un core di giovani che comunque stanno sorprendendo perché anche qui i Cleveland Indians non erano evidentemente pronosticati così tanto in alto soprattutto considerato che il Monte di Lancio è una pecca abbastanza interessante quantomeno per quanto riguarda il reparto partenti considerato per esempio che Shane Bieber si è infortunato di nuovo e quindi non può garantire le prestazioni da Cy Young che ha offerto qualche anno fa c'è sempre un ottimo Emmanuel Claset ma appunto il giocatore sudamericano è un closer quindi il giocatore che entra nel nono inning per salvare la partita e comunque evidentemente che i Guardians non hanno avuto così tanto bisogno eppure con un core di giocatori solidi magari non col nome dal know-how clamoroso i Guardians sono primi con 19 vinte e 10 perse i Kansas City Royals invece sono secondi 18 vinte e 13 perse ora io non vorrei dire ma nella diretta dei pronostici fatti a inizio stagione io ho detto ragazzi attenzione che Kansas City Royals hanno fatto un buon mercato con dei nomi solidi con evidentemente un core che può migliorare magari non per vincere la division ma per ritornare quantomeno a una squadra presentabile i Royals ricordiamo non sono più quella squadra che ha vinto il titolo nel 2015 e perso una fine nel 2014 ma di fatto è una squadra che da anni è in tanking puro in rinfondazione eppure con l'acquisto di Seth Lugo con un Bobby Wheat Junior in ascesa con la conferma di Salvador Perez oramai bandiera storica dei Kansas City Royals c'era evidentemente un qualcosa su cui investire i Royals sono agilmente secondi 18-20 13 perse chissà che non ci possa essere vita in questa American League Central che vede in terza posizione i Detroit Tigers squadra che è un po' un vorrei ma non posso sta sempre un po' lì nel mezzo ovviamente è il primo anno dopo il ritiro di Miguel Cabrera storico giocatore franchisor dei Detroit Tigers e giocatore totale che dovrebbe far innamorare gli appassionati moderni del baseball di questo gioco eppure il primo anno senza Miguel Cabrera vede un Detroit che comunque sta nel mezzo sorgnone in attesa di capire cosa fanno le altre davanti Detroit e Kansas City sulla carta non dovrebbero essere le principali contender per eventuali qualificazioni ai playoff nel corso della stagione certo però che vederli in seconda e terza posizione sorprende ma perché di fatto quarti sono i Minnesota Twins che non hanno un record malvagio parliamo di tre partite di distacco rispetto ai Cleveland Guardians che sono primi ma 16-20-13 perse è un record che in questa American League Central sembra veramente negativo da una stagione ampiamente sopra il 50% di solito con un record del genere e questa division i Minnesota Twins erano primi invece sono in quarta posizione anche loro un po' hanno degli infortuni da sistemare hanno un buon Carlos Correa che però è infortunato ed è tornato praticamente ieri notte e dovrà essere lui uno dei go-to guy di questi Minnesota Twins perché comunque Royce Lewis se è infortunato e di conseguenza il peso offensivo deve essere come dire retto appunto da Carlos Correa certo che vedere il Minnesota Quarta fa un po' impressione ma appunto come ho sempre detto è aprile e quindi i giudizi vanno un pochino presi con le pinze c'è comunque tanta incertezza in questa American League Central ma c'è una sola certezza i Chicago White Sox fanno schifo anche quest'anno è solo una squadra veramente impresentabile potremmo già definirli quello che resta dei Chicago White Sox sei sole vinte in trenta partite peraltro striscia aperta di due vittorie di fila due sconfitte di fila ovviamente con tre vittorie nelle ultime dieci i White Sox nonostante qualche nome sia comunque interessante Moncada Jimenez Robert su tutti ha un disastro su tutti i reparti possibili immaginabili a partire dal Monte di Lancio dove ha soltanto un Eric Feddy che sta facendo quello che può è salvare la baracca per il resto è un disastro totale i White Sox faranno la fine degli Atletics dello scorso anno una squadra condannata al tanking e probabilmente anzi sicuramente a svendere chiunque possa avere un minimo di know-how appunto i giocatori che ha citato sopra quindi i White Sox possiamo classificare come turbo ultimi già ad aprile ed è una delle tre squadre verosimilmente già fuori dai giochi a partire dal primo di maggio giorno in cui sto registrando appunto questo video passiamo adesso all'American League West un'American League West che invece è altamente competitiva con delle sorprese e non mi riferisco alla squadra in seconda posizione pensi a quella che è in prima cioè il Seattle Mariners squadra che io simpatizzo perché comunque c'è un Julio Rodriguez in stato di grazia che comunque è un gran bel giocatore c'è una rotazione parecchio interessante con Logan Gilbert e Luis Castillo su tutti per non parlare anche di Robbie Ray che è arrivato in uno scambio evidentemente con San Francisco è una squadra che può dire la sua anche quest'anno approfittando di chi è ultima in questa divisione ma appunto di chi è ultima ne parliamo in seconda posizione abbiamo i Texas Rangers i campioni in carico comunque sono partiti bene con 16 vittorie e 14 sconfitte una sola partita di distacco rispetto ai Texas o meglio ai Seattle Mariners ma appunto quelli che dovranno evidentemente stare attenti sono gli Houston Astros che però sono partiti parecchio male chi sorprende da certi punti di vista è Oakland anzi senza da certi punti di vista chi sorprende è proprio Oakland che nonostante un record negativo sta facendo una stagione dignitosa e presentabile 14 vinte in mese di aprile è praticamente un terzo delle vittorie che gli Athletics hanno fatto nella stagione 2023 terza posizione con un record negativo ma per Oakland va già bene così comunque ricordiamo che Oakland gioca con dei giocatori giovani che comunque saranno di prospettiva e probabilmente non rimarranno a Oakland negli anni futuri anche vista la situazione di cui poi parleremo in quarta posizione abbiamo i Los Angeles Angels Ovanaheim che hanno cambiato allenatore Ron Washington storico coach dei Texas Rangers prima e poi suggeritore di terza valli della Atlanta Braves poi dove ha vinto il titolo nel 2021 è arrivato ad allenare Mike Trout e i compagni però appunto come sempre gli Angels sono un po' una squadra di relitta che non riesce mai a fare il salto di qualità 11 vittorie 19 sconfitte per la seconda squadra di Los Angeles e comunque non sono ultimi perché sorprendentemente un po' come gli Athletics ma in senso negativo i Houston Astros hanno il record complementare rispetto alla squadra migliore dell'American League o meglio parliamo di un record di 10 vittorie e 19 sconfitte record speculare una partenza così disastrosa dalla parte di una squadra che dovrebbe evidentemente arrivare molto più in alto in classifica fa veramente spavento c'è però una nota positiva di cui dobbiamo parlare e rimaniamo in casa Houston perché a inizio aprile praticamente le primissime sfide di regular season abbiamo già avuto un milestone parecchio importante perché parliamo di una no hit una no hit effettuata dagli Houston Astros da un lanciatore trentenne all'ottava partita in Major League Baseball parliamo di Ronald Blanco giocatore classe 93 di Santiago Repubblica Dominicana che ha debuttato dopo aver praticamente abbandonato il baseball fatto di fatto l'operatore di pompe di benzina è rientrato dalla finestra in qualche modo in Major League ha fatto la trafia delle minors è arrivato a esordire l'anno scorso non era un lanciatore che si diceva un gran bene era un lanciatore che veniva chiamato in emergenza eppure l'ottava partita in MLB pianta una grandissima no hit contro Toronto le statistiche sono delle poche cose positive del mondo di lancio di Houston Astros che è praticamente un disastro tre vinte zero perse e una media di punti e una media di punti sul lanciatore di 1.65 fanno di Ronald Blanco il protagonista che non ti aspetti e all'ottava partita in assoluto nella Major League Baseball Blanco contro i Toronto Blue Jays si inventa il no hit che appunto lo fa rendere in storia e uomo copertina di questo video quello che stiamo vedendo è la preparazione all'ultimo lancio contro i Toronto Blue Jays arriva la rimbalzante metoda Vladimir Guerrero Junior l'assistenza per la via 53 e arriva l'eliminazione che chiude il discorso è no hit al Minute Maid Park festeggia Ronald Blanco no hit per gli Houston Astros vuol dire che i Toronto Blue Jays avversari di turno non hanno praticamente effettuato una battuta valida che sia singolo doppio fuoricampo o triplo gli unici arrivi in base che sono capitati per i Toronto Blue Jays sono stati per errore o per base per ball quindi evento che si vede abbastanza non così spesso ma alle volte che succede è un qualcosa di sicuro da celebrare eppure Houston è non dico di relitta perché non bisogna mai dare per morti gli Houston Astros ma è una squadra che è partita con le marce ridotte un po' come Tampa ma peggio rimaniamo in American League West perché c'è un'altra cosa di cui dobbiamo parlare ci sono gli Oakland Athletics sappiamo che Athletics oramai è una franchigia che dovrà essere spostata dal 2028 infatti la formazione che ex oramai Oakland dovrà andare a giocare a Las Vegas eppure abbiamo un problema perché gli Athletics giocano al Coliseum di Oakland uno degli stadi più orrendi va detto dove poter giocare al meraviglioso gioco del baseball eppure c'è un problema perché il contratto scadeva nel 2024 e la franchigia ha trovato un accordo con un'altra città e di conseguenza ci sarà un trasferimento seppur temporaneo per soli tre anni a Sacramento di conseguenza potremo salutare dal 2025 quelli che io chiamerò i Sacramento Athletics ora ovviamente gli Athletics non dovranno avere riferimenti alla nuova città per i prossimi tre anni quindi saranno semplicemente gli A's però appunto giocheranno a Sacramento nello stadio di squadra di AAA chiamata Sacramento River Cats e lo stadio lo vediamo qui nelle immagini è uno stadio comunque parecchio interessante è uno stadio molto bello per essere di AAA è sicuramente di livello ricorda un po' vagamente quando i Toronto Blue giocavano a Buffalo nel periodo della pandemia nella stagione corta 2020 e anche in parto nel 2021 per via delle restituzioni del governo canadese di fatto appunto è uno stadio dove verranno parcheggiati gli Athletics per i prossimi tre anni quindi le stagioni 2025 2026 2027 saranno a Sacramento si chiameranno sempre Athletics in attesa di trasferirsi a Las Vegas Las Vegas che ha già una squadra di hockey e una squadra di football anche questa è venuta da Oakland i Raiders e avrà nel 2028 gli Athletics che verranno da Sacramento dopo essere stati a Oakland ma sappiamo che appunto la situazione di Oakland nello sport è veramente un disastro tutte le squadre che erano lì sono andate da altre parti anche i Golden State Warriors sono andati dall'altra parte della Baia a San Francisco il problema di Oakland dal punto di vista del baseball era il poco pubblico presente una squadra che ha avuto una gestione della società veramente disastrosa una città di Oakland che non ha dato neanche lo stadio evidentemente alla formazione degli Athletics di conseguenza era giusto trovare una soluzione i tifosi spingono tuttora anche quando vanno in trasferta con striscioni per invocare l'accessione della società a un altro proprietario che magari possa riqualificare Oakland anziché fare questi mega trasferimenti prima a Sacramento e poi a Las Vegas comunque alla fine la proprietà ha deciso anche in accordo con la MLB dal 2025 gli Athletics arrivano sempre giallo-verdi ma non più a Oakland bensì a Sacramento e dunque magnificheremo l'ascesa del Sacramento Athletics che non penso avranno grandi velleità certo che in ottica 2028 quando appunto da Sacramento ci sospesterà a Las Vegas la squadra per attirare anche a Peel dovrà essere sicuramente più competitiva rispetto agli anni passati va detto che Oakland in questo momento è già abbastanza competitiva per le potenzialità che sono non propriamente altissime vedremo se si saranno questi piazzamenti dignitosi anche nei prossimi review della MLB finita la American League passiamo alla National League anche qui come al solito panoramica da Est a Ovest a cominciare dalla National League East gli Atlanta Braves stanno facendo gli Atlanta Braves sono letteralmente la migliore squadra della Lega con 19 vinte e 9 sconfitte soltanto niente di nuovo sotto il sole sappiamo benissimo che i Braves sono una corazzata probabilmente secondi soltanto ai Los Angeles Dodgers come potenzialità di roster e completezza dal monte di lancio in attacco effettivamente sono una squadra che probabilmente ha una strada non dico spianata per la National League East perché a Philadelphia è molto competitiva però comunque i Braves sono sempre da tenere d'occhio al netto che possono soffrire anche loro di problemi di infortuni sappiamo per esempio che Spencer Stryker uno dei top lanciatori della formazione dei Braves sarà out for the season dovrà operarsi ai legamenti del gomito e quindi evidentemente è una mancanza importantissima per la formazione dei Braves che però comunque hanno un roster talmente profondo che possono pezzarla assolutamente in qualche modo e vedere già i Braves primi lanciati con neanche 10 sconfitte in stagione è qualcosa di clamorosamente positivo in seconda posizione abbiamo Philadelphia quindi per il momento tutto secondo pronostico 20 vittorie e 11 sconfitte per la formazione di Braves Harper e Sochi una formazione talmente completa che può competere con i Braves sulla carta sono leggermente inferiori ma al momento al primo di maggio la classifica resta mezza partita di distacco certo i Phillies sono assolutamente completi e i Braves hanno avuto degli infortuni cose che poi si compenseranno ovviamente nel corso della stagione però comunque è già un'American o meglio una National League East assolutamente competitiva chi sorprende va detto in terza posizione sono i New York Mets e qui entra un po' l'anima del tifoso che è in me sapete che io sono un gran tifoso dei New York Mets e non gli avevo dati assolutamente competitivi perché dopo due stagioni di grandi investimenti e pochissimi risultati evidentemente la società ha cambiato un po' politica si sceglie di far giocare i giovani insieme a qualche superstar che è comunque rimasta su tutti Francisco Lindor Pitalosso e anche Brandon Nimmo a loro si aggiungono Brett Bailey Francisco Alvarez che sono giovani di assoluto interesse e nonostante una rotazione dei lanciatori che praticamente faccia parecchio fatica sulla carta perché di nomi a parte José Quintana e Coltice Nga che però è infortunato ed è nella lista di infortuni di 60 giorni quindi non lo rivedremo prima quanto meno della metà della stagione non mi aspettavo evidentemente tanto eppure abbiamo dei New York Mets terzi in division certo a 4 partite virgola 5 di distacco dai primi comunque una vittoria arrivata dopo un periodo un po' di infiaccamento i Mets dovessero imbroccare la via giusta potrebbero arrivare nella migliore dell'ipotesi a una wildcard ma non evidentemente in una ipotesi realistica è un'ipotesi più utopica da tifoso perché ci sono altre squadre molto più competitive nelle altre division però comunque vedere dei Mets un po' più solidi e presentabili rispetto allo scorso anno evidentemente è qualcosa di parecchio interessante in quarta posizione abbiamo i Washington Nationals che comunque stanno facendo i Washington Nationals anche oltre le aspettative 14 vinte e 15 sconfitte per la formazione che vinse il titolo soltanto 5 anni fa e non è la lontana parente minimamente in questa versione 2024 di quella squadra ultimi sono i Miami Marnins che io francamente avevo dato come molto più in alto io vedevo i Marnins al posto dei Mets tanto per intenderci eppure i Marnins sono veramente orrendi anche quest'anno con 7 sole vittorie e 24 sconfitte come dei White Sox qualunque ed è una sorpresa in negativo perché comunque i nomi di Miami Marnins li avrebbero pure però non stanno ingranando partenza disastrosa dei Miami Marnins che avevano addirittura un record negativo di 9 sconfitte consecutive hanno vinto solo la decima partita sembra una stagione di Angelina iniziata a sud per l'ex formazione di cui era proprietario Derek Jeter rimaniamo nella National League East perché c'è un episodio di cui dobbiamo parlare e torniamo a parlare dei Mets perché sapete appunto la mia grande simpatia per la formazione di New York con i colori arancio e blu eppure nelle partite scorse è diciamo uscita in auge la City Connect uniforme che ha fatto uscire quest'anno anche Philadelphia Tampa Bay peraltro Tampa Bay è molto bella quella dei New York Mets non mi piace però con la City Connect in una partita persa contro St. Louis arriva un milestone molto importante dell'orso polare perché Pitalonso sbatte fuori questa palla oltre alle censure del City Field contro St. Louis contro Gray e arriva il fuoricampo da due punti per raccrociare le distanze nella partita contro i Cardinals ma quello che conta è il 200esimo fuoricampo in carriera per Pitalonso ed è un record perché è il quarto giocatore più veloce della storia a raggiungere questa cifra in praticamente poco più di 700 partite una cifra veramente impressionante per un giocatore che deve evidentemente arrivare a essere il perno e l'uomo franchigia di questi Mets che possono evidentemente e devono contare sulle condizioni di attacco dell'orso polare Pitalonso dunque raggiunge questo grandissimo milestone peraltro raggiunto il 28 di aprile per la partita contro i Cards che i Mets hanno perso con la nuova divisa City Connect però comunque quando c'è un milestone è giusto celebrarlo un po' come la No Heat di Ronel Blanco andiamo adesso nella National League Center una divisione che comunque è molto competitiva perché non c'è una vera e propria squadra dominatrice ma ci sono tante squadre in equilibrio primi sono i pronosticati Milwaukee Brewers 18 vinte e 11 perse appena dietro abbiamo i Chicago Cubs 18 vinte e 12 perse in terza posizione abbiamo i Cincinnati Reds 16 vinte e 14 perse le altre squadre hanno un record negativo i Central East Cardinals che hanno 14 vinte e 16 perse e in quinta posizione i Pittsburgh Pirates in 14 vittorie e 17 sconfitte i Pirates erano partiti benissimo anche quest'anno sappiamo che i Pirates nel mese di aprile sono una squadra da battere e l'hanno battuta però più dell'anno scorso sono già un po' ricaduti nell'ultima posizione va detto però che comunque è una divisione parecchio interessante non c'è una formazione che domina come potrebbe essere gli Atlanta Braves per dire nella National League East o i Baltimore Orioles o gli Yankees nella American League East però comunque avere tanto equilibrio nella divisione parecchio interessante chi mancherà un po' all'appello probabilmente è St. Louis che ha dei grossi problemi sul monte di lancio anche nel parco rilievi non ha un attacco che riesce a compensare questo deficit e quindi comunque sono loro probabilmente candidati a essere quarti quinti un po' come Pittsburgh però Pittsburgh è una formazione che un po' si è rinforzata può contare su Onel Cruz può contare su Martin Perez su giocatori assolutamente interessanti Harold Chapman anche le altre squadre sono comunque giovani e più solide e con un'idea di gioco ben più definita i Senati Rez anche con De La Cruz che è tornato fin dall'inizio della stagione stanno facendo comunque una buona parte di stagione iniziale in terza posizione i Chicago Cubs invece stanno completando quel processo di maturazione che gli abbiamo evidentemente visto fare negli anni passati secondo me che i Cubs hanno fatto tanto tanking però hanno effettuato degli acquisti parecchi interessanti vedi per esempio quest'anno la rifirma di Cody Belliger da Free Agent l'anno scorso è arrivato Desby Swanson a questi si sono giunti giovani molto interessanti per esempio Christopher Morel un altro però grande acquisto dei Chicago Cubs è stato un lanciatore giapponese che noi abbiamo già identificato nell'off season come colpo comunque interessante nel video della Frege ci parliamo di Shotai Managa il classe 93 che è venuto direttamente dalla NPB il campionato giapponese ha effettuato un inizio di stagione veramente fantastico nelle prime tre partite Imanaga era addirittura a nessun punto concesso dagli avversari in media PGL di zero a fronte di tre vittorie e dopo anche l'ultima uscita le situazioni non sono cambiate anzi parliamo di quattro vittorie zero sconfitto e una media punti giovani sul lanciatore di 0.98 per darvi l'idea di chi non conoscesse il gioco del baseball se un lanciatore ha una media di punti giovani sul lanciatore inferiore a tre vuol dire che sei praticamente un fenomeno tra i tre e i quattro sei un buon lanciatore sopra i quattro c'è qualcosa da migliorare ebbene Imanaga di fatto concede più o meno un punto a partita nelle quattro uscite che appunto l'abbiamo visto protagonista cifre veramente incredibili il giocatore che può spostare gli equilibri di una franchigia ed essere l'indiscusso numero uno della rotazione per quanto riguarda i Chicago Cups che sono veramente una bella squadra e chissà che non possono competere contro questi Milwaukee Brewers al primo posto della divisione vedremo poi il mese prossimo a giugno come evidentemente saranno cambiate e saranno cambiate le classifiche concludiamo la nostra revisione con la National League West dove i Los Angeles Dodgers stanno facendo i Los Angeles Dodgers e stanno tanto per cambiare dominando questa divisione ma non potrebbe essere altrimenti sappiamo che i Los Angeles Dodgers sono una squadra che ha speso in lungo e in largo comprato una merida di giocatori con degli investimenti molto importanti ottani su tutti nonostante sia pagato per i primi due anni di contratto veramente poco rispetto ai 700 milioni che verranno poi diluiti negli successivi otto anni di contratto però 19-20-13 perse secondo me è ordinaria amministrazione per i Los Angeles Dodgers in seconda posizione c'è un po' di marasma generale al netto che tutte le squadre sono in record negativo e quindi se dovesse andare così l'andata della National League West stranamente da questa divisione potrebbe uscire solo una squadra per i playoff ed è la vincitrice in seconda posizione per i San Francisco Jans che sono una discreta squadra secondo me non è chiaritata da molti però qualche nome comunque di peso ce l'hanno vedi per esempio il coreano Yanko Ali certo devono comunque ingranare è una formazione che deve amalgamarsi parliamo però di 14 vinte e 16 perse le figurine di San Diego Padres invece sono in terza posizione 15 vittorie 18 sconfitte altra squadra che al momento deve ingranare così come lo deve fare Arizona gli Arizona Diamondbacks sarebbero i vice campioni in carica o meglio gli sconfitti dalla World Series contro i Texas Rangers sono partiti non male di più certo evidentemente aver avuto una squadra giovane al secondo anno evidentemente può essere un problema perché studiare giocatori come Corbin Carroll il primo anno è un discorso al secondo anno può evidentemente essere peggiorativo per le statistiche dello stesso Carroll degli altri giocatori giovani per esempio Ketel Martè o Jake McCarthy e chi più ne ha più ne metta comunque i Diamondbacks sono partiti con le marce ridotte 14 vittorie 17 sconfitte eppure i nomi non mancano vedi per esempio i grandi acquisti di Jake Peterson soprattutto Jordan Montgomery che ha vinto il titolo con i Texas Rangers proprio contro l'Orizona e appunto è arrivato come numero uno della rotazione appunto in quel di Phoenix ma comunque gli Arizona Diamondbacks secondo me arriveranno e quindi bisogna dargli un attimo di tempo ma comunque non è da classifica così tanto preoccupante chi non deve preoccuparsi è anche la formazione che è quinta in classifica ovvero i Colorado Rockies che stanno facendo i Colorado Rockies cioè schifo anche quest'anno 7 vittorie e 22 sconfitte i Colorado Rockies è giusto che siano un po' così e sono praticamente 3 di quelle squadre che dovevano arrivare così in fondo e sono da una parte Okan da una parte Chicago White Sox c'è pure Miami ci aggiungiamo anche i Colorado Rockies così facciamo 4 squadre già praticamente condannate a una stagione inutile e inesistente già a partire da maggio però comunque una squadra deve arrivare ultima e probabilmente sarà una di queste 4 che ho elencato questa dunque è la revisione per quanto riguarda la classifica e le 30 squadre della Major League Baseball a partire dal primo mese di stagione regolare fatemi sapere dunque cosa ne pensate delle vostre squadre del cuore come vi aspettate il proseguo della stagione in attesa del prossimo appuntamento che sarà tra il primo e il 2 di giugno per appunto la nuova MLB Review e saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti